salve ciao Renzo rieccoci qua di nuovo ci risiamo bene siamo pronti per un altro incontro intanto stanno entrando i partecipanti parliamo di didattica laboratoriale è possibile anche a distanza e Renzo ci darà delle idee di lezione per gli istituti tecnici a te la parola Renzo grazie mille grazie innanzitutto faccio partire delle slide sì ecco allora diciamo che una una provocazione domanda provocatoria che è venuta fuori nel lavoro che è stato fatto dal primo lockdown a questo secondo diciamo così lockdown io mi limiterò solo in modo molto umile a riportare i lavori e ciò che abbiamo fatto da un annetto a questa parte ripeto durante i blocchi che abbiamo avuto per torto collo come si dice comunque sono Renzo delle Monache insegno sistemi all'istituto superiore di istituzione superiore Alessandro Volta di Pescara e faccio parte della Campus Store Academy ovviamente questi minuti devono servire come spunto come testimonianza del lavoro fatto poi ci volendo da gennaio in poi ci saranno chiaramente corsi anche di di aggiornamento perfezionamento approfondimento direttamente sulla diciamo sulla piattaforma Campus Store che è stata inaugurata da pochi da pochi giorni a livello a livello nazionale ehm su cui si potranno soffrire corsi e approfondimenti di ogni tipo sia in presenza a distanza e speriamo eh prima possibile anche in presenza in presenza perché perché ovviamente eh ciò che ho riscontrato in questi mesi è stata la difficoltà a comunicare con gli alunni nel fare laboratorio a distanza ovviamente io non sono assolutamente un negazionista delle lezioni in presenza ma a maggior ragione i laboratori vanno fatti diciamo così non a distanza ma in presenza però siccome usavamo in questi strumenti di cui vi parlerò fra poco prima del primo lockdown eh adesso a inizio anno quando c'è stato permesso di di lavorare in presenza ehm ci siamo inventati sono inventato un sistema per far sì che i ragazzi non stessero soltanto ascoltando o da casa durante i blocchi di 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 lezioni in presenza bensì potessero eh essere più interessati coinvolti nelle lezioni teorico laboratoriali ehm noi avendo a disposizione questi strumenti che sono degli zita spese stazioni olografiche abbiamo eh cercato di interessarli attraverso un esperimento anche perché queste stazioni permettono sia di poter dimostrare in modo adesso vedrete eh leggermente diverso gli argomenti che si vogliono proporre sia praticamente lavorare per per somministrare mh ai discenti eh le prove di di apprendimento di quesiti compiti di risposte multiple risposta aperta con intervento diretto dovendo fotografare gli oggetti per rispondere una cosa molto più accattivante rispetto al semplice diciamo così compito dato anche in classe carta e penna avviene tutto in elettronico e queste stazioni permettono sia di generare se un collega o i colleghi che mi ascoltano hanno voglia di disegnare sempre con software completamente free si possono realizzare tutte le immagini tutti gli argomenti che si vogliono e riportarli dentro per poi costruirci sopra delle unità didattiche e quindi anche delle valutazioni a distanza considerate quando si fanno le prove tipo ciò che vedete qua in questa stazione diciamo olografiche in alta a sinistra si può interfacciare tutto con classroom con tutti gli strumenti che già conosciamo molto bene dal primo lockdown e quindi si possono somministrare prove e avere delle risposte dopo averle dopo averle generate io adesso in questi pochi minuti andrò veloce vi voglio far vedere degli spunti delle unità didattiche alcune unità didattiche che ho creato nell'argomento che più mi compete cioè ho creato una piccola unità che ho ritagliato solo per farvi capire cosa si riesce a fare su pepper che è un umanoide poi ho preso un robot della lego e ci ho fatto delle lezioni sopra poi ho preso un robot m bot della make x che siccome a bordo ha una scheda simile arduino ho creato delle differenze o ho chiesto ai miei discendi se notavano delle differenze tra la scheda a bordo di quel robot e diciamo così è la scheda è la scheda arduino arduino uno io ho lavorato su arduino uno ovviamente qual è il bello di questa stazione anche a distanza che tutto ciò che adesso voi vedrete vado avanti a parte che può essere portato fuori del monitor ma a distanza vedete l'alunno vede io sfrutto la parete in questo caso ero pure io lockdown a casa e sfruttavo la parete del mio studio diciamo così per portare le menti nell'ambiente virtuale che mi circondava quindi tutto ciò che io facevo e faccio lo posso anche portare fuori dallo schermo e utilizzare l'ambiente circostante in questo caso io facevo vedere diciamo le caratteristiche del robot umanoide quali erano i sensori le altezza adesso io non non vi voglio tagliare con spiegazioni tecniche sul robot umanoide che sicuramente avrete seguito altri seminari eccetera voglio far capire l'importanza di ciò che abbiamo fatto a distanza quindi praticamente ambiente circostante ambiente virtuale si possono portare fuori le schede si può disassemblare completamente il robot in questo caso io ho scelto diciamo così una dissezione non molto importante del robot se noi ci sono anche e tutto materiale che si trova sulla rete ci sono anche dissezioni molto più sofisticate dei robot se considerate o conoscete il piccolo nao eh diciamo il parente di 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 pepper addirittura ci sono degli assiomi che si scompongono in qualcosa come trecento quattrocento pezzi su cui io su cui si può costruire di tutto a livello diciamo elettronico meccanico eccetera io qua mi limitavo soltanto a far vedere come si potevano i pezzi principali scomporre pepper e qua creavo delle delle schede per interagire con gli studenti una volta dissezionato diciamo così il il robot davo anche la possibilità con questo che questo schermo aggiuntivo con la telecamera aggiuntiva di perfezionare e zoomare le caratteristiche del dell'oggetto molto più da vicino in maniera tale che i ragazzi dopo attraverso le domande che ponevano avevano chiarimento d'ulteriore sull'oggetto e potevano rispondere al meglio se avevano capito o no ciò che volevo dimostrare adesso vedrete poi anche con robot più che si sezionano meglio ho dimenticato una cosa se no non è chiaro ciò che sto dicendo ovviamente io questo lavoro io mentre lo faccio tra le altre cose in presenza quindi loro a distanza però io in presenza con la sezione grafica posso trasformarlo in un filmato in un filmato dove i ragazzi vedono le stesse cose che state vedendo voi a distanza glielo posso inviare e loro lo possono ovviamente rivedere in ogni istante in ogni momento per conto proprio quindi io posso generare la lezione fare le domande mandare il filmato quindi non mando un compito su classroom solo cartaceo a cui rispondere un video generato durante la lezione a cui loro dovranno rispondere a livello ovviamente a livello cartaceo mi dicono che cosa loro pensano del dell'oggetto oppure rispondere con diciamo così con risposte molto più esaustive alle domande fatte questo perché questo a distanza quello che siamo riusciti a fare in quest'anno e ho visto che c'è stato un notevole interesse da parte del del dei discenti degli alunni a casa perché non sonnicchiavano più me ne accorgevo dalle domande che facevano mentre io lavoravo lavoravo a distanza con loro con questa forma diversa di poter di poter esporre gli argomenti e non sonnicchiavano diciamo così con una lezione soltanto diciamo teorica anche perché eh loro erano abituati in presenza ad avere una stazione grafica a disposizione e a poter interagire non attraverso classroom eccetera ma direttamente su un su ogni singola diciamo postazione che viene messa a disposizione come potete vedere gli oggetti possono essere anche come dicevo prima all'inizio portati anche fuori dell'ambiente di lavoro e questo lo rende il tutto molto più accattivante e molto più bello adesso fra un istante vi farò vedere anche degli altri esempi ancora più diciamo più interessanti quello è un esempio con l'unità didattica fatta con Pepper in cui ai ragazzi di terza quindi il primo il secondo biegno di scuola superiore spiegavo l'architettura la struttura di Pepper per poi introdurle introdurle al linguaggio di programmazione quindi al coding qua invece è una un'unità didattica che ho somministrato a ragazzi del primo biegno per poter lavorare e progettare con l'ambiente lego siccome qua qualcuno di voi sicuramente potrà che già esperto del diciamo così dei kit lego potrà dire ma stai utilizzando un NXT che si legge qua sì perché dell'NXT ho trovato sulla rete degli assiomi gratuiti già pronti e quindi me ne sono servito facendo digerire a questa stazione grafica il disegno in dvg e quindi riportandolo potendo dopo scomporre il diciamo così il progetto il prototipo ma nulla vieta che in esempi meno complessi dove io voglio progettare da zero un dispositivo che possa realizzare disegnare in 3d convertirlo e inserirlo dentro questa stazione grafica quindi voi come potete capire c'è un po di lavoro da fare però diventa molto molto interessante dal punto di vista dei risultati qua io scomponevo e spiegavo le funzioni che il robot doveva fare attraverso la scrittura di un determinato codice però prima c'era il montaggio diciamo così a distanza del robot noi abbiamo fatto anche non so se questo può essere utile come suggerimento anche ai colleghi che mi ascoltano in questo momento abbiamo dato dei kit facendoli ruotare ai ragazzi a casa kit su cui loro hanno lavorato quindi potevano dopo fisicamente anche ricostruire l'oggetto progettato e prototipato come sto facendo io in maniera tale che il risultato non era solo diciamo di interesse grafico accattivante a livello diciamo così olografico bensì era anche fisico perché loro potevano riprodurre la stessa cosa o addirittura proporre un progetto completamente diverso mandarmelo in maniera tale che lo potessi guardare vedere il posizionamento dei sensori come vedete qua c'è un'esplosione molto molto più sofisticata rispetto a Pepper di prima anche se Pepper ovviamente è una macchina più complessa quindi però per farvi capire a che livello di interazione si può arrivare con questo tipo di diciamo così di stazione grafica con argomenti che penso sono oggetti che nella maggior parte parlo di Pepper, Lego, Enbot tutto quello che volete si trovi diciamo così già in giro per le scuole italiane addirittura ecco qua l'utilizzo anche di un'ulteriore telecamera virtuale che mi faceva vedere sulla parete l'aggiuntura, l'aggiunzione di un pezzo in modo molto più sofisticato uno zoom molto molto particolare considerate che io sto lavorando con progetti, con prototipi diciamo così disegnati e poi diciamo così sezionati per poterli disegnati pezzettino per pezzettino però considerate che ci sono anche delle librerie che si trovano già che la casa americana che produce questo oggetto fornisce e c'è fisica, chimica, biologia, scienze, di tutto e di più io da quello che ho potuto vedere anche perché ho dato un'occhiata diciamo così non totale ci sono circa 6.000 errotti contenuti già a disposizione per poter realizzare qualsiasi tipo di unità didattica da parte dei colleghi di discipline diverse quindi tutto ciò che voi vedete qua io qua dopo mi divertivo, mi sono divertito a fare spiegazioni perché questi ovviamente sono frame come potete vedere di lezioni abbastanza lunghe che ho fatto quindi non è che vi potevo proporre in 30 minuti solo queste lezioni durano due ore e mezzo quindi ho preso solo dei frame più interessanti per farvi capire come si arriva, come si può costruire diciamo così l'unità didattica stessa però ripeto ci sono dei contenuti già pronti perché mi metto nei panni di un collega mettiamo di scienze, di biologia non è che può fare un lavoro ingegneristico di disegnare la cellula e poi sezionarla ma è tutto quanto già esistente su cui però si possono innescare le competenze di ognuno di noi rispetto alla classe o ai discendi che abbiamo di fronte da un primo biegno di scuola superiore secondo biegno fino ad arrivare addirittura alle quinte ma oserei dire che si può fare anche scienze e biologia anche con ordini di scuole inferiori comunque vado avanti è giusto per farvi capire questo è l'altro esperimento invece fatto con l'MBOT l'MBOT penso che sia anche questo un robottino per le scuole tecniche abbastanza conosciuto che vi dicevo prima in cui io in questo caso chiedevo in queste schede di valutazione se loro sarebbero riusciti a darmi le diversità che esistono sulla scheda dell'MBOT montata e l'Arduino 1 come vi dicevo prima addirittura ovviamente loro possono tirar fuori del video come abbiamo fatto prima tutti gli oggettini io mi sono divertito tantissimo qua l'ho fatto con un bulloncino ho preso un bulloncino esistente all'interno dell'oggetto ogni tanto chiedevo a uno di loro che cos'era questo oggettino che io gli proponevo vedete questo qua più picco questa è una cosa piccolissima inserita nell'oggetto oppure facevo vedere un condensatore un integrato un diciamo così un sensore di infrarossi eccetera e loro mi dovevano rispondere anche in modo immediato attraverso l'interlocuzione video che si aveva in quel momento in più generavo delle schede che mi permettevano di valutare post il lavoro fatto la lezione diciamo somministrata e se loro avevano capito abbastanza ciò che io stavo esponendo in quel momento il risultato è stato veramente interessante da parte della risposta da parte dei dei ragazzi io mi sono molto divertito loro penso che abbiano diciamo così anche diciamo sono stati molto più interessate queste diciamo discipline tecniche di programmazione e insomma io penso di aver avuto un discreto un discreto successo e poi cosa che ho riscontrato anche quando loro i ragazzi dell'anno precedente sono tornati in presenza quel poco che abbiamo fatto a settembre in cui mi chiedevano se non altro di andare subito in laboratorio e provare subito le stazioni grafiche che avevano visto e i lavori che loro avevano seguito a distanza e penso che sia un metodo diciamo così diverso non voglio dire innovativo chissà che cosa però diverso per poterli interessare a distanza se si continua purtroppo questa situazione sono sempre convinto che le lezioni in presenza laboratoriale non se ne possano fare a meno non voglio con questo dire che ciò che vi ho fatto vedere diciamo sostituisce assolutamente però in caso come si dice di caso di necessità virtù si riesce a cosare chiedo scusa se io interrompo se ci sono delle domande non so se ho sforato no 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 assolutamente siamo nei tempi allora due domande qual è la piattaforma allora la piattaforma si chiama Zspace è un'azienda americana e si basa appunto su questa stazione grafica Zspace che è fatta di due di due unità quella più grande che vi ho fatto vedere che può utilizzare il professore che si può agganciare a un televisore cioè un monitor 65 pollici i ragazzi interagiscono con dei notebook sempre Zspace guardando quello che il professore sta facendo addirittura in presenza questo non si poteva fare a distanza i ragazzi possono anche indossare dei caschetti e quindi mettiamo il professore fa lezione e altre 20 persone seguono ciò che sta facendo in realtà olografica il professore stesso entrano diciamo all'interno della lezione anzi a proposito di questo noi abbiamo realizzato l'anno scorso un evento del ministero Leonardo a Castel Sant'Angelo a Roma attraverso la stessa stazione grafica abbiamo riprodotto le macchine le macchine di Leonardo in maniera tale che i ragazzi sempre con lo stesso strumento in maniera tale che gli ospiti visitatori della mostra potevano indossare diciamo così il caschetto e entrare proprio dentro a guardare le macchine di Leonardo è stata una cosa molto bella diciamo innovativa e quindi ci vuole un po' di tempo però è una grande soddisfazione fatta con i ragazzi certo ci scrive Luciano non ho capito come si riesce a portare fuori dal video le immagini allora per portare le immagini fuori dal video si ha a disposizione una penna un pennino che emette come una lancia una lancia colorata che io vedo attraverso degli occhiali 3D non tipo quello che porto io bensì degli altri tipi di occhialini che interagiscono col monitor perché il monitor lateralmente ha due sensori infrarossi che interagiscono con gli occhiali che io indosso in maniera tale che anche io vedo il 3D mentre sto operando e con questa piccola lancia un pennino riesco a portare fuori le immagini ok non ci sono più domande se vuoi aggiungere qualcosa tu Renzo diciamo che forse l'ho fatta troppo breve però io sempre con la paura reduci di altri seminari in cui non sono riuscito a dire tutto adesso cerco di dare l'essenziale di far capire di dare degli stimoli ai colleghi che già utilizzano questo tipo di tecnologia per fare lezioni e ho cercato di non annoiarli di vedere l'essenziale dal punto di vista dal punto di vista puramente tecnico i ragazzi hanno degli occhiali ho visto una domanda no allora i ragazzi non hanno lo stesso occhiale del professore ma hanno occhiali tipo quando vanno al cinema passivi che però vedono quello che il professore sta facendo lo vedono quindi sono e a conoscenza no però non sono a conoscenza però se la collega ha bisogno può scrivere a Campus Store poi gli daranno il mio indirizzo e glieli dopo rentieri le implementazioni sulle V3 che abbiamo realizzato cioè tutto ciò che noi facciamo è collaborativo e siamo sempre disponibili essendo un istituto superiore il Volta di Pescara non abbiamo problemi l'importante è che ci contattiamo poi noi diamo tutto quello che abbiamo a disposizione si può collaborare quindi non c'è problema ok quindi occorre acquistare la piattaforma uno schermo questo sì purtroppo perché il Volta non produce questi tipi di però i contenuti che abbiamo fatto che avevano nell'interesse dei ragazzi e delle altre scuole in Italia siamo disponibilissimi a darli non è un problema va benissimo allora abbiamo risposto a tutto se non c'è più niente da aggiungere io direi di passare ok all'altra stanza io ti ringrazio Renzo perché penso che adesso abbiamo finito di vederci noi sì due giorni sì 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 no veramente è stato un piacere conoscerti e capire anche la tua esperienza e la tua formazione insomma è stato importante condividerla con tutti i partecipanti e con noi di Radio SP30 io vi ringrazio e ringrazio anche tutti i partecipanti e buon proseguimento di domenica diciamo così grazie grazie Renzo e grazie a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti